video 76 della serie sugli integrali dedicato agli integrali definiti vediamo il primo integrale tra 0 ed a di a al quadrato meno x al quadrato in dx con a appartenente ai numeri reali quindi dal momento che a è un numero possiamo trattarlo come tale e integrare immediatamente l'integrale di a quadro è a quadro per x l'integrale di meno x quadro è meno un terzo x al cubo questo da valutare tra 0 e a andiamo a sostituire a e abbiamo a quadro per a meno un terzo a al cubo meno a quadro per 0 che è 0 più un terzo 0 al cubo che è 0 anch'esso quindi qui avremo a al cubo meno un terzo a al cubo cioè tre terzi al cubo meno un terzo al cubo che è due terzi a al cubo il risultato dell'integrale integrale tra 0 e pi greco di seno di x per x in dx risolviamo per parti e quindi costruiamoci la tabella deriveremo x ci servono tre righe quindi x derivato da 1 1 derivato da 0 integriamo il seno di x abbiamo meno coseno di x per la prima integrazione e seno di x per la seconda col meno davanti è meno seno di x ora moltiplichiamo x per meno coseno di x e meno 1 per meno seno di x e abbiamo già il risultato dell'integrale abbiamo detto che questo è uguale a meno x coseno di x meno 1 per meno seno di x e quindi più seno di x da calcolare tra 0 e pi greco quindi questo è uguale a sostituiamo pi greco e abbiamo meno pi greco per il coseno di pi greco più il seno di pi greco che è 0 più 0 per coseno di 0 che è 0 anche questo e poi meno il seno di 0 che è 0 anche questo quindi il risultato sarà visto che il coseno di pi greco vale meno 1 scriviamolo meno pi greco per meno 1 cioè pi greco integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di 2 u in d u ora qui visto che la derivata dell'argomento del seno è 2 moltiplichiamo per 2 e dividiamo per 2 e siamo di fronte all'integrale immediato di una funzione composta integriamo e abbiamo integrale sia meno coseno e quindi meno un mezzo coseno di 2 u da calcolare tra 0 e pi greco mezzi quindi avremo meno un mezzo che moltiplica il coseno di 2 per i greco mezzi meno il coseno di 2 per 0, cioè 2 e 2 si semplificano, il coseno di π è meno 1, il coseno di 0 è 1 e quindi abbiamo meno un mezzo che moltiplica meno 1 meno 1, cioè meno 2, meno 2 per meno un mezzo dà 1, il risultato dell'integrale. L'integrale tra 0 ed a di x che moltiplica la radice quadrata di a al quadrato meno x al quadrato in dx. Anche qui x appartiene ai numeri reali, non lo scriviamo, quindi lo trattiamo come un numero, sia quello all'estremo dell'integrale che quello sotto la radice e quindi se calcoliamo la derivata di a quadro meno x al quadrato è meno 2x, quindi moltiplichiamo la funzione integranda per meno 2 e l'integrale per meno un mezzo e possiamo già integrare. Scriviamoci la funzione integranda come meno 2x che moltiplica a quadro meno x quadro alla un mezzo, cioè abbiamo trasformato la radice a potenza in dx e ora integriamo. Abbiamo meno un mezzo a quadro meno x quadro elevato a un mezzo più uno fratto un mezzo più uno, questo da calcolare tra 0 ed a. E quindi meno un mezzo, un mezzo più uno a denominatore tre mezzi, cioè due terzi al numeratore, lo scriviamo fuori dalla parentesi e facciamo la semplificazione e quindi rimane meno un terzo e poi abbiamo a quadro meno x quadro elevato alla tre mezzi da calcolare tra 0 ed a uguale. Riscriviamo la potenza come radice e quindi abbiamo meno un terzo radice quadrata di a quadro meno x quadro al cubo e adesso possiamo sostituire 0 e a. nell'ordine prima a, quindi meno un terzo, radice quadrata di a al quadrato meno a al quadrato al cubo, ma questo naturalmente è 0, meno radice quadrata di a al quadrato meno 0 elevato al cubo, tutto moltiplicato per un terzo, uguale meno un terzo, che con il meno davanti alla seconda radice è più radice quadrata di a al quadrato al cubo, quindi a alla sesta. Naturalmente possiamo dividere l'esponente del radicando con l'indice della radice, questo dà come risultato 3 e quindi il risultato dell'integrale è un terzo a al cubo. Integrale tra meno 1 e 1 di 1 fratto x al quadrato più 2x più 5 in dx. Siamo in presenza di un denominatore di secondo grado con delta negativo, quindi dobbiamo ricostruire il quadrato, avremo quindi l'integrale tra meno 1 e 1 di x al quadrato più 2x, sommiamo 1 e abbiamo x più 1 al quadrato, quindi più 5, sottraiamo l'1 che avevamo aggiunto e quindi andiamo a riscriverci l'integrale come? Integrale tra meno 1 e 1 di 1 fratto x più 1 al quadrato più 5 meno 1, cioè 4 in dx, cioè ancora possiamo scrivere 4 come 2 al quadrato e siamo di fronte alla derivata dell'arco tangente di x più 1 mezzi, sappiamo come trattarla, quindi riscriviamoci intanto x più 1 al quadrato più 2 elevato al quadrato in dx, la primitiva è un mezzo arco tangente di x più 1 mezzi, questo da valutare tra meno 1 e 1, uguale un mezzo, l'arco tangente di x più 1 fratto 2 è l'arco tangente di x più 1 fratto 2 è l'arco tangente di 0, quindi l'arco tangente di 0 è 0, l'arco tangente di 1 è pi greco quarti e quindi moltiplicata per un mezzo è un mezzo per pi greco quarti da come risultato dell'integrale pi greco ottavi. Integrale tra meno a ed a di 1 fratto x quadro più a quadro in dx, condizione che ci dà l'esercizio a appartenente ai reali e che non può assumere il valore 0, quindi a diverso da 0. Scriviamoci, questa volta invece di calcolare da tabella, scriviamoci passaggi così ripassiamo anche i passaggi, naturalmente siamo di fronte alla derivata dell'arco tangente di x fratto a, qui la risolviamo raccogliendo a fattore comune un a quadro, quindi possiamo scrivere a quadro che moltiplica x fratto x quadro fratto a quadro che scriveremo come x fratto a al quadrato più 1 in dx, quindi portiamo fuori dal segno di integrale la costante, quindi 1 su a quadro, integrale tra meno a e a di x fratto a al quadrato più 1 in dx, facciamo comparire la derivata di x fratto a al numeratore e quindi questa è 1 fratto a e naturalmente dobbiamo moltiplicare l'integrale per a. Questo si semplifica con a quadro al denominatore, siamo pronti per integrare e naturalmente otteniamo lo stesso risultato di quello che abbiamo ottenuto sopra, quindi l'integrale è 1 su a per l'arco tangente di x fratto a e questo è da valutare tra meno a e a uguale. Facciamo tutti i passaggi, 1 su a per arco tangente di a fratto a, primo termine, meno arco tangente di meno a fratto a, naturalmente nel primo caso abbiamo l'arco tangente di 1 e nel secondo caso abbiamo l'arco tangente di meno 1, quindi avremo ancora 1 su a che moltiplica l'arco tangente di 1, mettiamo tra parentesi, meno arco tangente di meno 1. Ora l'arco tangente di 1 è pi greco quarti, quindi 1 su a per pi greco quarti, l'arco tangente di meno 1 è meno pi greco quarti, che col segno meno davanti diventa più pi greco quarti, pi greco quarti più pi greco quarti è pi greco mezzi e quindi avremo 1 fratto a per pi greco mezzi, cioè pi greco fratto 2a al risultato dell'integrale. Integrale tra e, numero di nepero e al cubo, di 1 fratto x radice quadrata del logaritmo di x in dx. Ora siamo di fronte a un integrale immediato di funzione composta, vediamo di sistemarlo in modo da capirlo meglio, 1 su x è la derivata del logaritmo di x, il logaritmo di x possiamo scriverlo come potenza numeratore, cioè logaritmo di x elevato a meno un mezzo in dx. Ora questa è la f primo di x e questa è la f di x, quindi possiamo integrare e abbiamo logaritmo di x elevato a meno un mezzo più 1 fratto meno un mezzo più 1 da calcolare tra e ed e al cubo, quindi è ancora uguale. Meno un mezzo più 1 è un mezzo, quindi avremo l'un mezzo al denominatore diventa un 2, per il logaritmo di x trasformiamo la potenza in radice e quindi radice di logaritmo di x da calcolare tra e ed e al cubo. Questo è uguale a 2. Sostituiamo e abbiamo logaritmo di e al cubo sotto radice, meno logaritmo di e sotto radice anch'esso, tra parentesi, uguale. Ora logaritmo di e al cubo è 3 e quindi abbiamo 2 che moltiplica, portiamo fuori dal, in argomento del logaritmo, l'esponente e quindi abbiamo 3 che moltiplica il logaritmo naturale di 3, ma il logaritmo naturale di 3 è 1 e quindi rimane radice di 3 che moltiplica meno, la radice del logaritmo naturale di e è la radice di 1, quindi 1 e quindi abbiamo il risultato, 2 radice di 3 meno 2. Ultimo integrale di questo video, integrale tra 0 e 1 di x fratto 1 più x alla quarta in dx. Ora qui ci riscriviamo il denominatore come segue, x fratto 1 più x al quadrato al quadrato. Se facciamo la derivata di x al quadrato è 2x e quindi se noi moltiplichiamo adesso la funzione integranda per 2x abbiamo a numeratore la derivata di x al quadrato e quindi siamo in presenza dell'arco tangente di x al quadrato. Ovviamente dobbiamo moltiplicare per un mezzo, funzione composta, integrale immediato e quindi avremo un mezzo arco tangente di x quadro da calcolare tra 0 e 1. Sostituiamo e abbiamo un mezzo arco tangente di x al quadrato che è 1 meno arco tangente di 0 al quadrato che è 0. Naturalmente l'arco tangente di 0 è 0, l'arco tangente di 1 è pi greco quarti, quindi il risultato sarà un mezzo per pi greco quarti, cioè pi greco ottavi. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video. Se vi è piaciuto il video e soprattutto se vi è stato utile mettete un like e vi ringrazio. Condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili a far crescere il canale. In descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.